Veramente no? Ma che io non lo so fare? Ah no adesso? No 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 adesso, sì sì, sono dentro di una data Volevo dire un passaggio di questo No perché la mia moglie sono ammazzata E' il cavolo, è il cavolo, è il cavolo, è il cavolo. Il cavolo, è il cavolo, è il cavolo. Il cavolo, è il cavolo, è il cavolo, è il cavolo. Il cavolo, è il cavolo, è il cavolo, è il cavolo. 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 Il cavolo, è il cavolo.